Un tavolo stabile che coordini le azioni e le attenzioni in tema di sotterramento di rifiuti e la richiesta avanzata in prefettura del comitato a cui hanno diritto diverse realtà associative del territorio dopo che sono venute a galla le ombre di presunti interramenti raccontati dal pentito della scu Silvano Galati e le verità venute a galla anche dopo attraverso la stampa. L'attesa c'è, si tocca con mano dopo l'apertura di un'inchiesta per traffico di rifiuti da parte della Procura di Lecce ci si aspetta che anche la politica e le istituzioni facciano la loro parte nell'operazione verità e in quella di necessaria bonifica di siti inquinati. Vogliamo sapere chi deve fare cosa subito, basta con le chiacchiere, basta con le indagini ne abbiamo accumulati in tanti anni, Lecce deve diventare di esempio modello di un territorio che ha sviluppato coscienza e sensibilità rispetto a certi problematiche e vuole essere addirittura di esempio rispetto al resto di Italia. Non si può tornare indietro, insomma, il pensiero dei salentini è chiaro. Si faccia attenzione anche al dato sanitario e non solo a quello fisico e chimico che può derivare dai controlli annunciati dalla magistratura. Soprattutto la finalità è quella anche di fornire delle notizie rassicuranti. Noi abbiamo svolto una pre-riunione con la Regione e con la Procura e abbiamo delle notizie che fanno un po' più chiarezza su tutta la problematica circoscritta ai territori di cui si è parlato in questi giorni. Il procuratore aggiunto, Ennio Cillo, ha annunciato che l'intero 2014 sarà dedicato ad approfondimenti su questa tematica, ma è necessaria la massima collaborazione dei cittadini e dei sindaci. Convocati quelli indicati dal Comitato, Supersano, Cutrofiano, Secli, Casarano e Ugento, oltre agli organi di controllo, Dipartimento di Prevenzione dell'Asda di Lecce, Arpa Puglia, Provincia di Lecce e Regione Puglia. Oggi è importante ascoltare i comitati e i sindaci proprio per delimitare bene l'oggetto degli interventi e per capire anche come in un territorio così ampio bisogna intervenire tempestivamente per evitare che ci sia un allarme sociale. La loro parte dovranno farla, appunto, si diceva ai sindaci, segnalare a predisporre i progetti di caratterizzazione bonifica, chiedere i finanziamenti e questo anche nel caso di quei 197 siti riportati nell'elenco del Piano Bonifiche della Regione. Storia diversa rispetto agli interamenti ad opera della criminalità, visto che si tratta di ex di scheriche autorizzate in deroga tra gli anni 80 e 90, ma comunque siti potenzialmente contaminati. Queste caratterizzazioni, queste bonifiche comunque non sono di competenza degli enti regionali perché ovviamente erano gestite dall'amministrazione comunale e le amministrazioni comunali che sanno dove sono le devono bonificare. Quando le risorse finanziarie lo consentono la Regione può intervenire diciamo finanziando gli interventi. Non possiamo andare oltre, non vogliamo fare meno, non possiamo fare di più. Grazie a tutti.